Grazie ad un imperioso allungo nella salita finale, Andrea Innoscenti si è giudicato con grande autorità la 64esima edizione della prestigiosa Coppa Bonechi di ciclismo, categoria allievi. La gara si è svolta in Valdinievole in località Traversagna, Massa e Cozzile per l'organizzazione dell'Unione Sportiva Giancarlo Bonechi. Il portacolori della polisportiva Mille Luce ha preceduto di un minuto Mesut Cepa della Tosco Gas di Chiesino Zanese e Andrea Biancalani, Veloclub Empoli, giunto a due minuti e mezzo dal vincitore. Quinta vittoria stagionale ma soprattutto terza vittoria in una settimana. Sì, ovviamente stiamo superando un buon periodo di forma, non solo io ma tutta la squadra, ci aiutiamo molto, siamo molto compatti e infatti i risultati vengono. Voglio ricordare che ieri sei arrivato secondo a cronometro, ma oltre che a cronometro oggi hai dimostrato di andare forte anche in salita perché ricordo che sei scattato l'ultima volta il passaggio sulla salita di Colle. Sì, già al primo passaggio avevo cercato di scremare un po' il gruppo però gli atleti della gruppa non collaboravano pur essendo in due e quindi ho deciso il secondo giro di provare il tutto per tutto e rischiare. Ho provato ad allungare nel gruppo, ho allungato in salita, ho provato a rientrare solo l'innocente ma non ce l'ho fatta, aveva un buon passo e dietro andava, non ce l'ho fatta rientrare. Quando sono scattati due che avevano preso un grande vantaggio il gruppo ormai ha mollato e quindi siamo arrivati con la volata. La cronaca della gara che ha visto al Via 107 atleti è visibile nel trisettimanale di ciclismo Toscana Sprint in onda dal martedì al giovedì alle 22 in replica al giorno dopo alle 13 su Sporti VL, canale 193. Grazie.